e ora vi faccio andare a tutti i ragazzi al macellino del comune del comune e come seguiremo con il comune il comune del comune del comune del comune del comune del comune al giallo e l'Italia il presidente onorario di Confindustria Marmo Macchine Flavio Marabelli per l'Algeria il presidente della Federazione Algerina dei Minerali e le Minieri e l'Industria della Pietra Jalal Gittoun Grazie 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 Grazie. 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 Il memoria dell'autorità nazionale anti-corruzione della Repubblica italiana e l'Organo nazionale per la prevenzione e la lotta contro la corruzione della Repubblica algerina democratica e popolare. Firmano il Presidente dell'autorità nazionale anti-corruzione Giuseppe Busia e il Presidente dell'Organo nazionale per la prevenzione e la lotta contro la corruzione Tarek Kur. Grazie a tutti. 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 Il ministro di sviluppo economico della Repubblica italiana e il ministero delegato presso il primo ministro incaricato dell'economia della conoscenza e delle start-up della Repubblica algerina democratica e popolare per la creazione di meccanismi comuni per lo sviluppo di ecosistemi per le start-up italiane e algerine. Firmano per l'Italia il ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, per l'Algeria il ministro delegato presso il primo ministro incaricato delle start-up Yasin Elmadi Walid. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti Il ministro dell'Industria della Repubblica Algerina, Democratica e Popolare sulla cooperazione industriale e tecnologica firmano il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, il ministro dell'Industria Ahmed Zegdar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dichiarazione di intenti tra il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica Italiana ed il ministro dell'Istruzione superiore della ricerca scientifica della Repubblica Algerina, Democratica e Popolare sulla cooperazione scientifica e di ricerca. Firmano il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio e il ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica, Abdelbaki Benzian. Grazie a tutti. Grazie. Memorandum d'intesa tra il ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana e il ministero della transizione energetica e delle energie rinnovabili della Repubblica Algerina, Democratica e Popolare sulla transizione energetica e le energie rinnovabili. Firmano il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e il ministro della transizione energetica e delle energie rinnovabili Benattusa Ian. Grazie. 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 grazie 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 Grazie. Accordo di cooperazione nel campo della protezione e della promozione del patrimonio storico e culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina, democratica e popolare. Firmano il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, il Ministro degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all'Estero Ramtan Lamamra. Grazie. 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 Sì. Sì. Diccare. congiunta del vertice intergovernativo italo-algerino. Firmano il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Mario Draghi, il Presidente della Repubblica Algerina democratica e popolare Abdelmajid Tebun. Grazie. Grazie. Applausi.